Ed eccoci nell'ultima sezione, ovvero la sezione My Guide, tramite la quale è possibile creare ed esportare delle guide. Vediamo ora come creare una nuova guida. Premo New e mi compare questa interfaccia. Questi tab elencano tutte le categorie e i moduli che possono essere aggiunti alla mia guida, mentre invece sulla destra è visualizzata l'elenco delle voci di menu della guida multimediale. Innanzitutto diamo un titolo alla guida, guida testa ad esempio, e una descrizione, la mia prima guida. Bene, ora posso iniziare ad aggiungere oggetti alla guida. Posso ad esempio aggiungere delle categorie. Mettiamo ad esempio che però di una categoria, ad esempio Shopping, che contiene 39 punti di interesse, io non voglia aggiungere tutti i punti di interesse, ma solo una selezione. Posso cliccare in Modify e andare a deselezionare alcuni dei punti di interesse. In fondo alla pagina trovo il tasto Add. Bene, ho deselezionato due punti di interesse e infatti mi compare Shopping con 35. Devo riselezionare le altre categorie per poter fare Add e aggiungerle. Allo stesso modo posso aggiungere un itinerario o posso aggiungere alcune Suggestion. Le Suggestion aggiunte in questo modo verranno messe sotto la voce Suggestion, che è una delle icone del menu principale. Tramite le Suggestion posso anche creare quelle che chiamiamo delle macro-categorie o delle macro-suggestion, ovvero invece di inserirle a menu principale sotto la voce Suggestion, posso raggrupparle, quindi selezionarne ad esempio 5, e posso aggiungerle come macro-suggestion. Questa opzione mi permette di dargli un'icona a piacere, mi permette di dargli un titolo. Diverso dal titolo di default. Salva come macro-categoria. Bene. Posso poi aggiungere una top 10, in questo momento non presente, o una lista di numeri utili. Anche in questo caso andrò a selezionare tutti i numeri utili che compongono la mia lista e premo Add. Bene. Per quanto riguarda gli eventi, devo semplicemente dirgli se deve andare a prendere gli eventi. Allora, gli eventi vengono salvati chiaramente online, perché vengono aggiornati ogni notte, come spiegato nel modulo eventi. Pertanto il client si deve collegare a un URL dove risiede il file eventi. Quindi, questo è l'URL di default che fa riferimento al nostro sito, chiaramente è possibile andare a prendere gli eventi esportati nel modo corretto da qualunque URL. Quindi lo seleziono e premo Add. Ecco che la mia guida è terminata. Posso premere Salva. Ed eccomi alla mia lista di guide, con Guida Test, la mia prima guida appena creata. Nel prossimo modulo vedremo come utilizzare le funzioni di export. Grazie a tutti.